Buongiorno a tutti, iniziamo prima con il bollettino così. Comincio io? Sì. Allora, situazione in generale, così si elimina qualche domanda in riferimento alle condizioni. Che Manolas in settimana è stato gestito per questa infiammazione retta addominale pubblico, però poi ha sviluppato una quantità di allenamento corretta. Castana oggi è il primo allenamento che fa perché ha avuto questa influenza abbastanza forte e valuterò poi dentro l'allenamento, ma è il primo allenamento che fa. Poi c'è Francesco che è stato gestito per questo fastidio all'Anca, è tornato ad allenarsi oggi, ieri e oggi si dovrebbe allenare, per cui sarà a disposizione. E poi di altre situazioni di rilievo non ce ne sono per quanto riguarda la condizione dei calciatori della squadra. Gionberg è fuori perché ancora deve recuperare. Norbert Possiamo iniziare con le domande, inizia Censi, Roma Radio. Buongiorno, mister. Vigne, Pjanic e Nainggolan sono diffidati. Questo quanto peserà sulle sue scelte anche in vista del derby? No, abbiamo un numero di calciatori che ci consente di poter sopperire se poi un giocatore sarà squalificato, per cui non peserà niente nel senso che le scelte si fanno per la partita di domani. Paonessa, Roma TV Eccomi, mister. Buongiorno, la classifica sembra imporre all'Inter una vittoria o comunque di non perdere domani all'Olimpico per sperare ancora al terzo posto. Si aspetta allora un Inter con un atteggiamento diverso, magari più offensivo? No, a me sembra che l'Inter abbia giocato tutte le partite, perlomeno quelle che io ho visto, per portare a casa il risultato pieno. Sicuramente domani ancora di più, perché come mi sembra abbiano dichiarato, mirano poi a questa posizione classifica. Poi l'abbiamo fatto noi quando eravamo allo stesso punto di loro, eravamo a meno 5, ambivamo a questa posizione, è licito che lo facciano loro adesso, perché no? Angelo Mangiante, Sky Sport Eccoci, buongiorno. Può sapere anche un po' qualcosa sulle condizioni dei rossi e se lo state valutando più come soluzione in mezzo al campo, cioè al centro campo, o eventualmente da difensore centrale? Daniele si può valutare da qualsiasi parte, perché è quel calciatore che ha un po' tutte le qualità, che hanno dei calciatori importanti, che hanno dei calciatori che completano poi quello che è il suo atteggiamento in campo, in base alle esperienze, in base alle caratteristiche proprio che hanno naturali. Quello che diventa fondamentale è la disponibilità del calciatore che lui ha già dato e che lui ha già fatto vedere di saper poi sviluppare in maniera corretta, sia da difensore centrale che da centrocampista. Per cui viene pensato in queste posizioni qui, tutte, senza escluderne nessuna, tenendo anche conto del resto della squadra, del resto dei calciatori che compongono la nostra rosa. Spalletti, buongiorno, domenica scorsa Udine, il grande risveglio di Dzeko, Spalletti preveggente, l'ha lanciato in campo dall'inizio, Dzeko ha risposto bene, sarà confermato o vedendo anche quelli che sono i difensori dell'Inter privilegerà l'attacco di movimento con magari Dzeko inizialmente in panchina, visto che ci sarà anche pianice dall'inizio? Questa volta qui ci prendiamo il tempo che abbiamo a disposizione e diciamo che tutte e due le soluzioni sono possibili perché hanno fatto vedere che tutte e due le soluzioni poi funzionano e possono essere usate entrambi. Per cui la formazione, se gioca Dzeko o un centravanti più leggero, più mobile, verrà messa a punto nell'allenamento di oggi, verrà messa a punto nella preparazione della partita, nelle ore che mi rimangono. Pallotta è stato a Roma e non ha sciolto la questione Totti e poi è andato a Boston in una conferenza diciamo che ha scaricato un po' il giocatore per la prossima stagione. Io non le chiedo, ecco lei ha detto che non vuole intromettersi poi sulla vicenda Totti, ma questa gestione della comunicazione è un po' penalizzante per lei che poi si ritrova a gestire Totti in allenamento e l'ambiente Roma? Guarda, secondo me così non va bene perché si rischia di banalizzare una delle questioni più importanti della Roma, più importanti di quella che è la storia di questa squadra. Il metodo giusto non è sempre, secondo me, andare alla ricerca di un'opinione in più o di andare a sentire quello che dice qualsiasi persona vuol parlare di Francesco. Secondo me è giusto fare schermo, difendere questa situazione, transennare, è giusto dare il tempo di potersi finire di parlare, di potersi capire a quelli che sono veramente le componenti fondamentali di questa questione, che sono Totti e il Presidente della Roma. Sempre secondo me non c'è statistica, perché ora leggo che si può portare quella che è la storia di Francesco su quello che è una statistica, un minutaggio, un numero di un foglietto, che è una cosa per quanto mi riguarda ridicola. Il metodo giusto è che si incontrino, che si parlino e che prendano poi una decisione e che sia una decisione che rende felici Totti e il Presidente della Roma. E noi poi dobbiamo tutti prendere atto di quelle che sono le decisioni che loro hanno preso, cioè andare a confrontare la storia di Francesco con quelli che sono discorsi di qualsiasi persona. Posso essere anch'io dalla mia posizione, ma non è corretto, è molto di più la storia di Francesco, è molto di più quello che hanno vissuto insieme. E sono loro due che debbono trovare la soluzione, che li rende tutte e due felici. Noi dobbiamo solo prendere atto di quello che è il risultato di questo confronto, di questo parlare, di questo dirsela tutta fino a un fondo, conoscersi in profondità per quella che è la volontà di Francesco, quello che è veramente che lo rende felice dentro la Roma. Lui è anche il Presidente della Roma, devono essere felici tutte e due dalla soluzione che viene fuori. Io da questo momento smetto di parlarne, secondo me è giusto che smettiate anche voi, perché la banalizzate questa questione con i vostri discorsi. Io ancora di più se ne parlo con i miei, ma voi uguali. È così, sono loro. Accetto la controreplica. Lei dice sono loro, giustamente, ma proprio perché devono essere loro a parlarsi, hanno avuto modo di farlo qui a Roma. Lei come fa a saperlo, di quello che si sono detti loro? Lei gliel'hanno raccontato e gli raccontano quello che gli pare. Io non accetto telefonate da nessuno, ma se le accettassi e lei mi chiama e gli racconto quello che mi pare. Per cui lei riporta delle cose non vere, delle cose distolte sentite dire. Questa è una questione importante. Teniamola al livello di importanza che ha, senza andare a cercare l'opinione di qualsiasi. Posso citare dieci nomi delle persone che sono qui dentro. Ma infatti, senza andare a cercare opinioni di qualsiasi in giro, io volevo la sua nella gestione del giocatore che riceve da Boston delle dichiarazioni così forti. È lei che poi lo gestisce qui. Quello io non sono il Presidente, non so, questo bisogna lo chiedere al Presidente. Io dico che loro si debbono incontrare, si debbono parlare, debbono approfondire questa questione per l'importanza che ha dalla posizione di loro. Sono loro che hanno due posizioni. Qui non c'è allenatore, non c'è direttore generale, non c'è nessuno che può interferire. Sono loro due. La cosa è talmente importante, di livello, che la soluzione deve venire fuori da questo incontro qui. E che non è in base a quanto lo farà giocare l'allenatore. Perché lui può avere il piacere di giocare anche un minuto nella prossima stagione. Scusi Spalletti, ma il suo giudizio... No, niente, non ha valore. In questo caso qui è talmente più grossa la cosa che l'ho belledetto dieci volte. E sono loro due. E devono essere felici della soluzione che trovano. Perché tutte e due devono trovare qualcosa di piacere in questa soluzione. E poi io e voi ne prendiamo atto e ci comportiamo di conseguenza. Pinci, La Repubblica. Salve. Io volevo chiederle se ha visto Bayer Monaco Juventus e così guardando quella partita, guardando la partita che ha fatto la Juventus, se ha pensato a cosa manca alla Roma per essere a quel livello, giocatori o magari qualcosa di diverso? Per fare una partita come quella che ha fatto la Juventus. Ma io, se devo andare a cercare qualcosa per migliorare la Roma, guardo la Roma, guardo la Juventus. Dico che quella è stata una bella partita dove ci sono calciatori eccezionali, dove c'è una mentalità ormai diffusa nei due club, ormai evidente che si percepisce, che si tocca con mano, che è di grandissima qualità e di grande livello. Però poi sono contento di quello che esercita la mia squadra e di quello che sta facendo vedere la mia squadra. E' chiaro che tutto si può migliorare, bisogna sempre andare a lavorare, essere aperti per poter trovare cose nuove, per poter mettere poi sul proprio piatto dei valori che danno una spinta a quella che è la ricerca, danno una spinta a quello che è l'obiettivo a cui vuoi arrivare. Però, insomma, la Roma è già una buona squadra che ci si può lavorare per migliorarla. Pizzo Ferrato, Aria. Buongiorno Spalletti. Sono qua. Sì. Senta, la Roma-Inter di domani rappresenta anche il ritorno della sfida tra le due panchine tra Spalletti e Mancini. Campionati importanti con lotta al vertice tra le due squadre. Che ricordi ha? Che sensazioni? La emoziona un po' questa cosa? Mi emoziona tutte le volte che la Roma scende in campo perché la Roma a me dà qualcosa di particolare, dà delle sensazioni forti. per cui che si giochi con una squadra o con l'altra, io ricevo sempre questo urto che mi dà poi una partita di calcio. è chiaro che l'Inter te lo condisce un po' perché è l'Inter, perché ha grandi calciatori, perché è un grande allenatore, perché è un grande club, perché ci sono state delle grandi sfide. C'è un grande traguardo come obiettivo per entrambe le squadre e spero che la mia squadra sia all'altezza dell'importanza del match. Pugliese, Biazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Sì. Io le volevo chiedere una partita dal profumo di Champions, come a tutti gli effetti quella di domani sera. c'è il rischio di vedere due soli italiani in campo, Florenzi da una parte, D'Ambrosio dall'altra, c'è De Rossi, c'è Der, ma è un oriundo. Ecco, in un momento in cui il calcio italiano esce un po' a pezzi in Europa, che segnale è la normale evoluzione del calcio moderno o si è sbagliato qualcosa da questo punto di vista? È un po' tutto. Dipende che cosa vogliamo sostenere, a cosa vogliamo dare forza. È chiaro che il mondo va verso le aperture, bisogna essere all'altezza di quello che propongono poi fuori, se si vuole avere dei miglioramenti. Il fatto di tutelare, di difendere quello che è il nostro sticello va bene per certi versi, non va bene per altri. Ci sono calciatori importanti del nostro campionato che giocano all'estero e che vanno a farsi onore poi anche in un confronto europeo. Per cui, per me, la soluzione è sempre quella di aprire, di andare a vedere, di imparare, di confrontarsi, di far vedere il nostro valore. Io, se devo essere bravo perché tengo bassi tutti gli altri, è meglio che qualcuno prenda il mio posto. Dubaldo, il Corriere dello Sport. Buon dia. Allora, in proiezione futura, spesso quando fai riferimento alla prossima stagione, dici sempre se resto, se resto. E tu hai un contratto che ti regala Roma fino a giugno del 2017, correggimi se sbaglio. Comunque sia, c'è una programmazione da fare, preparare una squadra, tu hai sempre detto se resto, voglio competere per lo scudetto. Quindi significa che tu, in qualche modo, penso, vorresti opporti, hai la forza di opporti, ti chiedo, di fronte alla possibilità che vengano ceduti dei top player. Adesso si parla molto di un'offerta del Chelsea per Manu, adesso poi si parla di Real per Pjanic. Tu hai la forza di dire, io resto, però voglio questi grandi giocatori che restano, oppure devi fare i conti con quelli che sono... Guarda, io delle cose che devo parlare con il Presidente non vengo a dirle a voi, le dico al Presidente, nel senso che non ho bisogno di... Io dico che da qui alla fine del campionato ci sono delle partite che sono fondamentali per quello che riguarda il futuro di ognuno di noi. Per cui bisogna fare attenzione a sviluppare queste partite qui. Poi è chiaro che nello svilupparle, nel vedere dove andremo poi a finire come posizione, come comportamenti, come forza di squadra, bisogna fare anche altri discorsi. Però attualmente le attenzioni sono a mettere ora dentro le partite tutte quelle qualità, quelle caratteristiche che abbiamo. Che poi probabilmente mi cercherà un'altra squadra, mi riferisco a un giocatore e stasera giochi una brutta partita. Non ha valore per me, ha valore quello che è il rendimento di questa partita qui, ha valore quello che è il risultato di questa partita qui. Per noi è fondamentale la partita di domani sera. Noi assolutamente dobbiamo arrivare in fondo in questa posizione. Abbiamo due squadre fortissime che sono lì e che ce la vogliono poi prendere questa posizione. Per cui non la dobbiamo difendere e guardare anche a qualche cos'altro. A noi ci garbano le pressioni, ci fa piacere quando qualcuno ce le dà, anzi ce le prendiamo da soli le pressioni. Andiamo alla ricerca di pressioni, vogliamo arrivare più in là. Probabilmente c'è chi si accontenta o crede di essere in linea ad essere quinto in classifica. Loro dovevano vincere il campionato e loro invece erano... Mi sembra che Tuiria abbia la faccia di quello contento quando gli dicono che è quinto in classifica. Io sono qui per tentare di migliorare giorno dopo giorno quello che è il rendimento della squadra della Roma e ci gabba a guardare avanti. Buongiorno Spalletti, sono qui. Senta, esco un attimo dalla partita, cambio un pochino tema, anzi prendo spunto dal fatto che domani arriva Mancini. Le chiedo, ma visto che è stato accostato alla Nazionale, lei come obiettivo suo di carriera nella vita come allenatore, se l'è posto questo obiettivo? Allora, a me piace fare l'allenatore, piace fare questo lavoro, tant'è che ho provato a staccare per un po' e poi invece sono stato ritirato dentro perché il sentimento era quello lì. È chiaro che se poi lo faccio nel posto che mi piace ancora di più, ecco. Quando poi hai trovato tutte e due queste componenti, si guarda a quello che è il risultato che devi raggiungere, quello di quest'anno, come ho detto prima. La programmazione va bene dopo quando sei un po' tranquillo, quando sei nelle condizioni di poter decidere o di poter valutare a bocce ferme. Ora sono dentro una ricerca che va al di là del condizionamento, della programmazione e di altri pensieri. La squadra deve sapere questo qui. Io non voglio dare nessun dubbio di quella che è la mia ricerca momentanea. Per cui non parlo di altre situazioni che non di quella che deve essere la classifica alla fine di questo campionato. Noi dobbiamo minimo arrivare terzi, assolutamente. E poi se c'è qualcuno che perderà qualche punto, vedere di arrivare più vicino possibile a quelle due squadre fortissime che ci sono davanti. Non so se lei voleva farmi un complimento e dire che sono da nazionale. Io me lo prendo, stia attento. Come? Sì? Parisi, Centrosona Sport. Buongiorno mister. Senta, domani è una partita importante, forse la più importante da qui alla fine della stagione. Ci sarà uno stadio olimpico in versione forse teatro, perché non ci sarà la curva sud come è sempre successo. E anche i gruppi organizzati dell'Inter hanno annunciato che non prenderanno parte alla trasferta romana per protesta contro la divisione della curva. Questa mattina Gabriele ha detto che le barriere possono essere tolte, però i tifosi devono tornare allo stadio. Ecco, chiedo a lei come se ne esce da questa situazione e poi se dovesse ripartire a livello di percentuale le colpe di questa situazione, come le dividerebbe? A me sembra fondamentale che una persona come Gabriele abbia dato ulteriori aperture, aveva già fatto un precedenza. Bisogna saper cogliere, poi bisogna farsi trovare pronti quando ci sono delle aperture, a inserirsi. Bisogna essere bravi a diminuire quello che è il proprio orgoglio, il proprio sentimento di rivalza sempre, che è una caratteristica dell'italiano in generale. Io dico che dalle parole si legge che se si vuole insieme si trova la soluzione, quella è la cosa fondamentale. Me lo diceva prima Gianni, non ho letto bene quelle che sono state le dichiarazioni perché sono notizie arrivate all'ultimo momento e non ho la possibilità io e non lo voglio neanche dire perché non sono all'altezza proprio, non conosco la questione fino in fondo per poter indicare chi ha torto e chi ha ragione. Dico che siamo vicini alla soluzione perché vedo che c'è buonsenso da parte di chi comanda. Rosso Mando, Teleradio Stereo. Salve mister, sono qui. Quando lei è arrivato un paio di mesi fa ha trovato sicuramente una squadra in difficoltà, tanti giocatori che stavano giocando sotto le loro potenzialità. Le volevo chiedere, una delle cose che la sta gratificando di più è quella di essere sicuramente riuscito ad incidere e determinare in senso positivo il rendimento di tanti giocatori. Le faccio ad esempio un nome, Keita, che nel giro di due mesi è passato da giocare poco a essere praticamente un titolare di questa squadra. No, una delle cose più belle, più cariche, più di soddisfazione che si hanno ad avere il mio ruolo è quello dell'evidenza dello sviluppo dell'allenamento. Cioè se come ieri e ieri l'altro io partecipando all'allenamento e vedo i ragazzi che sono dentro la causa e che pedalano, che viaggiano, che la ricerca è quella lì, l'attenzione, la disponibilità, la voglia di fare contrasto ma non farsi male, non cadere poi nelle stupidità che a volte vengono fuori da quello che è l'alzare, il livello di guardia è un risultato importantissimo, si lavora meglio, si vive meglio a contatto del quotidiano e si realizza di più. Ce l'ho un cruccio che è quello di gente come Keita, di averli trovati ora che hanno questa atta qui, gente come Maicon, che sarebbe stato un piacere allenarli prima perché vedo qual è l'assoluta forza mentale e la qualità sul campo, l'esperienza, cioè sarebbe stato bellissimo averli potuti allenare prima. Facciamo l'ultima, Fasan, Rete Sport. Buongiorno mister, volevo chiederle a che punto è Strottman per quanto riguarda il suo recupero, visto che c'è anche poi la sosta, e poi una curiosità su De Rossi, se lei reputa la difesa a tre fattibile solo con De Rossi o comunque insomma quasi solo con De Rossi? Strottman sta migliorando di volta in volta, sta facendo sempre più contrasti, si sta arrabbiando sempre di più in allenamento, quando voi parlate della faccia di Strottman dite giusto, perché è quella faccia che quando entra dentro nella partitina ti incute quel timore, che lotta per una punizione, per un gol, per un qualsiasi cosa gli vada contro durante la partitina in allenamento, che è una cosa spettacolare, per cui è segno che è molto vicino a quello che è il ritrovare tutte le sue qualità. È chiaro che poi ha bisogno della partita vera, di giocare qualche partita dove poi va a riscontrare le situazioni reali. In questo deve confrontarsi anche con il resto della squadra, che ci sono dei calciatori che adesso stanno facendo bene, per cui bisogna tenere di conto un pochettino tutto, non è Strottman a priori, Strottman nel momento che magari Pjanic ha bisogno di respirare, o che fa vedere di essere sotto il suo livello, cosa che non è attualmente. Ecco, per cui si cerca di essere bravi a fare meno danni possibili, a tenere di conto di tutto. Daniele può giocare, come si è detto prima, da tutte le parti, e la squadra può giocare in tutti i modi che ci sia Daniele nei tre della difesa o che non ci sia, perché si è fatto anche diversamente, si può fare anche diversamente. Grazie a tutti. Fini.